Ho un rossetto, un completino intimo, un oggetto per la casa, non importa, l'importante alla fine è afferrare alla cassa il sacchetto con le cose nuove che ho comprato, oh che goduria! Venerdì alle 21 al centro di Alma Ruggero c'è la prima spezzina di uno spettacolo molto bello, di cosa si tratta? Grazie, si tratta di un sacchetto d'amore, a spezia, spezia proprio non è ancora stato, infatti per me è una prima spezzina, è stato già presentato a Lerici, è in turno in tutta Italia e purtroppo è l'unica data effettivamente qui in regione e in provincia anche, quindi spero sarete numerosi al di Alma, infatti venerdì 9 alle 21 per questa serata organizzata in collaborazione con l'associazione Gli Scarti in cui appunto presenterò un sacchetto d'amore. Visto che ci si avvicina a San Valentino, qual è il messaggio che arriva da questo spettacolo? È proprio quello, è proprio l'amore effettivamente che è l'ingrediente, la base per una vita felice dice uno dei personaggi nello spettacolo, però per raccontare questo faccio partire la storia da Cinzia, una donna sposata con una suocera un po' impegnativa, una cognata altrettanto impegnativa La porto in scena perché è una donna affetta da shopping compulsivo e quindi ci divertiremo all'inizio, insomma ci riconosceremo anche ovviamente in questa dipendenza, però poi andremo a scoprire quali sono le cause, qual è la ricetta, insomma effettivamente per uscire da queste dipendenze E allora ci sarà il sold out, lo sappiamo già, però per chi si volesse affrettare ancora ricordiamo l'appuntamento Sì, venerdì 9 febbraio di Alma Ruggero alle 21